Ma preferite lo slalom o la discesa libera? Discesa libera! Non solo calcio, c'è un piccolo esercito di giovanissimi che alle scarpe con i tacchetti preferisce gli scarponi con i ganci, ai pali delle porte preferisce i paletti dello slalom. Sono i ragazzi delle società sciistiche piacentine. Il numero degli iscritti è in crescita e il merito va anche a Massimiliano Meles, confermato nel 2011 alla guida della Direzione Provinciale della Federazione Italiana Sport Invernali. Abbiamo circa, come tesserati, a livello locale 400 iscritti, di cui un centinaio in età giovanile che fanno gare a livello agonistico. Organizziamo all'interno del circuito sei gare provinciali, siamo in concomitanza con le altre tre province, Pavia, Cremona e Mantua. L'età di questi ragazzi è l'età agonistica che comincia dai sette anni in su. Li abbiamo incontrati in campo neutrale, nel laboratorio di Ulisse Carini, che è riuscito nel suo intento di creare un polo di aggregazione delle società di questi giovani atleti, con attrezzature per la preparazione degli sci e una piccola sala multimediale. Se la neve si è fatta desiderare, non sono comunque mancati entusiasmo, determinazione e spirito di competizione per questi giovani agonisti e antagonisti. Quest'anno abbiamo ottenuto ottimi risultati, soprattutto con le categorie dai baby agli allievi, dove abbiamo il maggior numero di atleti. Poi abbiamo anche le categorie giovani e senior, dove comunque abbiamo il campione provinciale assoluto in carica. Nelle categorie giovanili abbiamo ottenuto ottimi risultati, soprattutto nei cuccioli maschile, dove l'ultima gara abbiamo avuto addirittura un podio completo con tre ragazzi della nostra società. Soprattutto negli ultimi due anni abbiamo visto una crescita sia quantitativa che qualitativa dei nostri ragazzi, che ci stanno dando delle buone soddisfazioni. Il nostro chic club è nato 15 anni fa, nel 2000-2001, e da allora ci siamo occupati sempre di agonismo. Abbiamo atleti in tutte le categorie, partendo dai baby fino alla categoria giovani, quindi si va dagli otto anni fino ai vent'anni. I risultati che avete raggiunto quest'anno? Allora, i risultati abbiamo sempre a podio a livello individuale e abbiamo collezionato un 4-5 vittorie anche di squadra, nelle categorie giovani e poi a livello di circoscrizione, quindi le categorie baby, cuccioli, ragazzi allievi, e siamo secondi dietro la corazzata a Ponte dell'Olio. La nostra attività si svolge principalmente in tonale, facciamo sci per i ragazzi dai 4 ai 17 anni, sci agonistico, quindi fanno le gare, fanno gli allenamenti, abbiamo otto allenatori e siamo organizzati, un bel gruppo che comprende ragazzi principalmente di Piacenza, ma anche di Brescia, Bergamo e Milano. I risultati che avete raggiunto? Incrociamo le dita, quest'anno finora siamo a livello di squadra imbattuta, quindi incrociamo le dita, che abbiamo ancora i provinciali e poi molti ragazzini si sono qualificati ai regionali, diciamo che è un anno fortunato, speriamo continui così. E la squadra migliore qual è? La nostra olio! Il bettola!